Ecco, qui siamo nella sala di lettura della Biblioteca Berio, tutti i libri intorno a voi sono volumi a scaffale aperto di saggistica dedicati alle varie discipline, la filosofia, la religione, le scienze, le scienze naturali e via dicendo. In questa sala in particolare ci sono le postazioni dove si studia, si legge, si consultano i volumi. Invece ora poi vedremo anche la parte più antica, diciamo, dove ci sono le collezioni storiche della Biblioteca. Qui però ci troviamo nella parte moderna, nella parte addirittura più nuova dell'intero edificio perché è quella aggiunta ai perimetri dell'antico seminario arcivescovile. Saliamo verso un'altra sala di lettura che occupa gli spazi che erano una volta ovviamente con altri edifici, delle antiche scuderie del seminario e anche qui troviamo tutti gli scaffali dove ci sono i volumi che sono liberamente accessibili ai lettori e quindi possono essere presi direttamente dallo scaffale. Ci sono i volumi di arte, di letteratura, di storia, di geografia. Tutti questi volumi per essere più comodamente a portata dei lettori sono collocati secondo una classificazione internazionale che si chiama classificazione decimale diui e che permette di collocare vicini i volumi che trattano dello stesso argomento, della stessa disciplina in modo che possano essere immediatamente presi dai lettori. Ecco, ci troviamo adesso nella sala di consultazione dei libri antichi e delle raccolte specializzate della Biblioteca Berio. Ovviamente i libri che vedete intorno a me a Scaffale non sono libri antichi ma sono i libri moderni che servono per studiare i libri. Quindi libri sulla storia della miniatura, sulla storia della stampa, della tipografia e via dicendo. Invece su questo tavolo vedremo alcuni esempi dei libri che si trovano nella Biblioteca Berio e che risalgono a periodi molto diversi. Vi faccio prima vedere non l'originale ma il facsimile del famoso Libro d'Ore Durazzo che noi chiamiamo normalmente offiziolo Durazzo. Libro d'Ore vuol dire che è un libro di preghiere con le preghiere delle diverse ore della giornata. Qui ovviamente è riprodotto ma nell'originale... Nell'originale queste pagine sono di pergamena tinta nella porpora quindi sono delicatissime e il libro è ricchissimo, ne cerchiamo una, di miniature. Ecco, eseguite da un pittore molto noto all'inizio del Cinquecento, Francesco Marmitta. Questa è l'annunciazione e poi ci sono per esempio molte grottesche proprio tipiche del nuovo stile dell'epoca quando erano appena stati riscoperti anche numerosi affreschi romani, per esempio quelli della Domus Aurea. Vedete che ha questa bellissima legatura che è stata riprodotta fedelmente con questi fermagli, con i rubini. Questa legatura è immediatamente riconoscibile e è in mano a un giovane nobiluomo in un famoso quadro del parmigianino che si trova alla National Gallery di Lombra. La curiosità è che non si sa chi sia l'uomo ritratto nel libro e quindi, come dire, non si sa chi è il committente di questo capolavoro. Noi lo chiamiamo Librodore Durazzo perché fu Marcello Durazzo a donarlo alla Biblioteca Berio dove, dopo averlo comprato, sul mercato antiquario. Questi invece sono dei manoscritti originali. Questo sulla destra è un canzoniere poetico di poesie d'amore realizzato in area ferrarese, come si può vedere dagli stemmi e vedete come la miniatura già racconta tutto il tema del manoscritto. Vedete che c'è questo cavaliere, il poeta, che colpito dalla freccia di Cupido scrive versi per la sua damigella. questa è pergamena e se giriamo le pagine troveremo che ogni componimento, in questa pagina sono quattro sonetti, ha il proprio capolettera miniato con la miniatura in cui spicca tridimensionale la foglia d'oro. Questo è già un canzoniere in lingua italiana. invece questo è un classico libro di grande interesse storico per chi studia la storia della città perché questo è il libro della nobiltà di Genova. Quindi se apriamo le pagine troviamo gli stemmi di tutte le famiglie ascritte al libro d'oro della nobiltà e quindi viene utilizzato ovviamente dagli storici, dagli storici dell'arte per fare ricerche sulle famiglie genovesi. grazie. grazie.